Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Ah, tempo reale. Ah, tempo reale. Noi siamo qui anche oggi. Siamo qui anche oggi. Siamo qui anche oggi che è il 28 di dicembre. Ci saremo domani, chissà, perché tu leggi i titoli dei giornali e sono tutti positivi, tutti contagiati. Ho capito, ce la vuoi tirare della Polazzi? Come si suol dire in gergo per utilizzare un'espressione molto sobria. Tutti temiamo. Eh, vabbè, succede. Anche perché, come ti dicevo, qualsiasi cosa che hai può essere Covid, quindi se una mattina ti svegli e fai due starnuti ti viene già un attimo di preoccupazione, un po' di ansia. Un colpo di tosse, un mal di pancia, un mal di gola. Io poi qua psicosomatizzo tutto. Va bene. Non sei il solo, tranquillo. Diciamo che in questi giorni, in modo particolare, dove il cerchio si stringe sempre di più... Che detto così sembra... siamo degli serial killer e ci si stringe il cerchio. Perché tutti pensano di avere qualche sintomo e quindi ci sta. Quindi buongiorno, buongiorno ai sintomatici, buongiorno agli asintomatici, buongiorno ai positivi, ai negativi. Noi facciamo i saluti a tutti. Sì, non discriminiamo nessuno. Assolutamente, ai vaccinati, ai non vaccinati, cioè prendiamo proprio... A queste ultime giornate dell'anno vogliamo così essere onnicomprensivi nei nostri saluti, tra l'altro come sempre. Io sono anche onnisciente, lo sai. Sì, anche onnisciente. Comunque Antonio è d'accordo con te. È difficile non essere d'accordo. È d'accordo, dice proprio così Andrea. Buongiorno, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto in radio, in televisione su Icaro TV e poi ancora sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Ma partiamo immediatamente dandovi i nostri contatti facili, facili. C'è un numero che potete utilizzare per i vostri SMS e Whatsapp. C'è arrivato anche un nuovo presepe, tra l'altro. Sì, sì, poi proveremo a farvelo vedere. 337511336, questo è il numero che potete utilizzare appunto per questo. Farci avere i vostri commenti, quello che volete, una frase, un saluto, quello che desiderate. Avete delle richieste. Chiaramente c'è anche la possibilità, anche molto rapida e immediata, di utilizzare la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Come diciamo Facebook. Ah, non Facebook, mi sembrava. Considerate che se volete rimanere anonimi, 337511336. Quindi volete dire delle cose brutte. Delle cose brutte, delle cose che non si devono sapere. Anche su di noi, ma noi leggiamo tutto, anche le cose brutte su di noi. Diciamo i nomi e poi invece, chiaramente Facebook invece lascia un po' questo tema della privacy un po' in secondo piano. E allora andiamo a partire. Andiamo a partire subito salutando Antonio, che hai già menzionato tu e iniziando con una notizia di cronaca. Non si chiude bene l'anno. Non si chiude bene l'anno. Una notizia che tocca la provincia di Rimini in maniera tangenziale, perché di fatto l'episodio delittuoso è avvenuto nella regione Marche, ma insomma siamo nella vicina Gradara. Esatto. Siamo proprio a due passi, tanto che c'è un legame forte anche con il nostro territorio. Cosa è successo? È successo che un pensionato di 80 anni, Vito Cangini, incensurato, ha ucciso nella notte tra il 25 e il 26 la moglie, 61enne, Natalia Chiriccioc. Nella notte tra Natalia e Santo Stefano, appunto, nella loro casa di Fanano di Gradara. La donna lavorava come cuoca in un ristorante di Misano e, a quanto è emerso dalle prime ricostruzioni, il motivo del gesto sarebbe stato il fatto che la donna si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale col marito, che così avrebbe reagito sferrandole più fendenti al petto. Dopo l'omicidio, insomma, ci sono alcuni particolari che definirei un po' agghiaccianti. L'uomo si sarebbe messo a dormire col cadavere della moglie a terra in camera. Il mattino seguente, una volta svegliato, si avrebbe prima fatto colazione, poi portato il cane a fare una passeggiata. Dopodiché, al ritorno, ha chiamato il ristorante di Misano Adriatico, dove la moglie da un paio d'anni lavorava e dove era attesa per il pomeriggio alle 17.30 per prendere servizio, dicendo al titolare che non l'avrebbero più rivista perché lui l'aveva uccisa. Allora, il titolare ha pensato che non fossero andate così le cose, ma giustamente ha contattato i carabinieri di Cattolica, che hanno a loro volta contattato i colleghi marchigiani, quelli di Gabicce e di Pesaro, che sono andati a casa dell'uomo ad effettuare un sopralluogo, lo hanno trovato, sembra che li stesse aspettando in cucina, li ha accompagnati in camera da letto, dove c'era ancora riverso il corpo della moglie. L'uomo si trova ovviamente in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Esatto, proprio così, insomma, una ricostruzione veramente inquietante, perché appunto al di là della efferatezza con cui quest'uomo ha colpito la moglie, ora questo è il motivo che lui ha raccontato, probabilmente, insomma, la ricostruzione vede anche degli altri episodi di violenza nel passato di questa relazione, anche se questa mattina i quotidiani raccontano come Natalia, che aveva già un figlio, tra l'altro da una precedente relazione, fosse una donna, immagino abbiano raccolto queste indicazioni anche dai colleghi di lavoro, molto solare, molto disponibile, che non aveva mai parlato poi anche della situazione che stava vivendo in casa. E tra l'altro lo stesso ristoratore, che appunto aveva le sue dipendenze, la signora dice, ho conosciuto Cangine, ogni tanto veniva a mangiare una pizza, persona normale, all'apparenza più che tranquilla. Pare addirittura che durante il giro con il cane, appunto la mattina successiva all'omicidio e prima di telefonare al ristoratore, Cangine abbia raccontato anche di quello che aveva compiuto ad un vicino di casa, senza però essere creduto, perché effettivamente... Quando racconti una cosa del genere, poi la racconti ovviamente. Esatto, proprio così. Per cui ieri, quando abbiamo saputo questa notizia, come diceva Andrea, la signora lavorava a Misano, però è chiaro che è un lutto ed è anche una storia che colpisce da vicino per la violenza, purtroppo l'ennesimo femminicidio che ci colpisce molto, molto da vicino. E questa è la notizia di cronaca dalla quale abbiamo deciso di partire, cerchiamo ancora di posticipare il momento e quindi io adesso passerei alla politica, perché ieri è arrivato, come di consueto a fine anno, con un po' di scarto rispetto agli altri anni, perché l'amministrazione si è da poco insediata a seguito delle elezioni dell'inizio di ottobre scorso, è arrivata però la comunicazione reddituale dei nuovi amministratori, sia consiglieri che giunta. Allora siamo andati un po' a spulciarla, tra l'altro sul sito poi trovate i dettagli nome per nome dei vari redditi, noi ci siamo soffermati solo sulla situazione reddituale, ovviamente sui quotidiani si è andata anche a vedere qual è la spesa relativa alle ultime amministrative da parte di ognuno degli eletti, noi invece vi proponiamo un po' le curiosità riguardo ai redditi con una conferma che arriva, però diciamo che questa conferma, che è quella di Marcello, in vetta ai paperoni, quest'anno è stata avvicinata da una new entry in giunta all'avvocato. Eh già, diciamo che il nuovo consiglio comunale, quindi la nuova giunta, ma anche i consiglieri, ci danno nuove notizie, perché poi insomma più o meno gli anni passati non cambiava tanto, anche nella situazione reddituale di consiglieri e amministratori. Ma sentiamo, poi eventualmente aggiungiamo qualche altro dettaglio. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, medico, si conferma il paperone del consiglio comunale ariminese, con un reddito complessivo nella dichiarazione 2020 di quasi 337 mila euro. Marcello risulta anche proprietario di quattro appartamenti. A marcarlo da vicino è il neo assessore allo sport l'avvocato Moreno Maresi, con 311 mila euro di reddito e la proprietà di 11 fabbricati, alcuni molto piccoli a Rimini e di un paio in provincia di Trento. Al terzo posto, ma considerevole distanza, un altro volto nuovo del consiglio, Manuela Guaitoli, del PD, con 106 mila euro circa, e la proprietà, tra l'altro, di due appartamenti a Rimini. Sono gli unici a superare quota 100 mila. Dopo di loro il capogruppo della Lega, l'avvocato Luca Dessio, con 74 mila 600 euro, e i consiglieri di Rimini e Rinata, Marco Zamagni, con 61 mila 600, e quello di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, con 59 mila 200. Il sindaco, Jamil Sadegolvad, dichiara 41 mila 800 euro di reddito. Tra chi lo ha fronteggiato alle urne, ed è poi arrivato in consiglio, lo supera solo Gloria Lisi, ex vice-sindaca, con 52 mila 300 euro, mentre Matteo Angelini, del 3V, si ferma a 25 mila 156, ed Enzo Ceccarelli, della Lega, a 6 mila 754. Per Ceccarelli, anche la comproprietà al 50% di due fabbricati e un terreno, a Bellaria e Giamarina. In giunta, dopo Maresi, la dichiarazione più alta è quella di Anna Montini, docente universitaria, con 67 mila 300 euro. Senza redditi, invece, nel 2020, i due assessori più giovani, Francesco Braagni e Francesca Mattei, e il consigliere PD Edoardo Carminucci, più giovane tra i banchi del Consiglio. La presidente, Giulia Corazzi, dichiara invece 5 mila 400 euro. Questo, insomma, una sintesi, ovviamente, poi tutti i nomi, se siete curiosi, ma quanto ha, qual è il reddito di lui o di quest'altro? Ma che cosa, che macchine ha, perché poi ci sono anche questi dettagli. Noi chiaramente non siamo andati a spulciare così di fino, come si suol dire, però potete, eventualmente, se avete un guairismo sui redditi politici, andarli. Ma tutti ce l'hanno, tutti ce l'hanno. Sì, perché alla fine, tra l'altro, per trasparenza, ed è giusto che sia così, per cui potete andare a sbirciare senza problemi, senza anche sentirvi in colpa per farlo, perché è una cosa dovuta. Diceva Andrea poco fa che in questo prospetto ci sono anche le spese per le campagne elettorali. Noi ci siamo soffermati su questo aspetto in particolare, però possiamo dire che ad avere speso di più in campagna elettorale, quindi poi, tra l'altro, soldi possiamo dire a questo punto ben ripagati, è l'attuale sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, che ha investito in campagna elettorale circa 69 mila euro. Ricordiamo che sono diversi contributi che arrivano dai sostenitori, dai partiti, insomma ci sono chiaramente non di tasca propria, o comunque non solo di tasca propria, ma anche con una serie di contributi. Al secondo posto c'è, ma molto, molto distante, Enzo Ceccarelli, che ha investito 19 mila 500 euro e poi si fa riferimento, almeno su questo quotidiano, non so se poi Andrea sul Corriere ci sono delle ulteriori indicazioni, Nicola Marcello. Nicola Marcello che comunque per la sua campagna elettorale, quindi quella che poi lo ha portato a confermarsi come consigliere, più o meno ha speso 9 mila 800, quindi circa una decina di migliaia di euro per la sua campagna elettorale. Ha sottolineato Matteo Petrucci, del PD, 2118, Gioenzo Renzi, Fratelli d'Italia, 1929, Loreno Marchei, 1509 euro, Marchei della Lega e Filippo Zilli, Fratelli d'Italia, 1409 euro. Questi sono gli investimenti per la campagna elettorale. Allora, io ho perso il tuo microfono per qualche istante, ecco adesso ti risento invece, è stato un problema solo sulle nostre cuffie. No, è il nostro Max Alberici che gioca con il nostro audio, tranquilla. Ah, perfetto. E degli altri, diciamo, candidati a sindaco ci sono le spese elettorali, perché qui sul resto del carino non li vedo, quindi penso ad Angelini, a Gloria Lisi, insomma gli altri candidati a sindaco del comune di Rimini, a Valentini, che poi vabbè non è entrato neanche in consiglio comunale, quindi non lo deve dare. Qua si dice solo che Gloria Lisi ha fatto affidamento su quanto messo a disposizione dal suo comitato elettorale, così come Matteo Angelini. Perfetto, non viene dato il prezzo di questo affidamento, esatto, proprio così. Bene, questa è la politica. Questa è la politica. A questo punto cosa facciamo? Noi proviamo a entrare nel tema magari partendo dalle novità, o meglio, dalle presunte novità, alcune certe, alcune ancora in via di definizione, per chiedervi anche la vostra opinione in proposito. Quindi magari poi torneremo a parlare, visto che poi abbiamo un paio di ospiti, uno via l'altro, da contattare. Ma quali sono le novità? E torniamo ovviamente purtroppo a parlare di pandemia. Ieri è arrivata dal generale Figliuolo l'ufficialità dell'anticipazione della cosiddetta dose booster dal 10 gennaio, si potrà fare già dopo quattro mesi. Questo insomma era già nell'aria, era stato anticipato che sarebbe avvenuto, non c'era ancora una data, adesso questa data c'è. Però nella giornata di domani si riunirà il comitato tecnico scientifico, famoso ormai comitato tecnico scientifico, per rispondere ad una serie di sollecitazioni che sono arrivate anche da alcuni esponenti del governo, da presidenti di regione e il tema è quello di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino. Attualmente la quarantena per i vaccinati è di sette giorni, potrebbe essere ridotta a cinque o addirittura a tre. Il richiamo garantirebbe infatti una maggiore copertura anche dal contagio. Il timore è poi quello che con l'aumentare dei casi, visto che si stima che ogni caso abbia tra i cinque e i dieci contatti stretti, si rischierebbero diciamo milioni di persone bloccate per un periodo di tempo piuttosto lungo. Questo è quello che si andrà a definire. C'è il grosso punto interrogativo che poi cercheremo di approfondire anche grazie all'aiuto dei quotidiani di oggi del tracciamento, perché puoi accorciare la quarantena finché vuoi, ma finché non ti chiamano per fare il tampone d'entrata ed uscita. Esatto, tu puoi anche decidere che la quarantena di chi è vicino ad una persona che diventa positiva, ha avuto un contatto stretto e quindi dovrebbe stare in quarantena duri di meno, anche tre giorni, anche cinque giorni, ma chi fa il tampone entro quel? Non riescono a fare né quello d'entrata né quello di uscita allo stato attuale delle cose. Per cui benissimi proclami che immagino creino anche un po' di speranza del tipo sì, se qualcuno vicino a me si ammalo, mi ammalo io, non fermo l'intera catena e produttiva, soprattutto quando si parla di lavoro, ma anche semplicemente familiare. Io sinceramente sulla possibilità che poi questa cosa venga attuata o arrivano delle nuove risorse, stiamo parlando di risorse prevalentemente umane, perché servono, perché se vuoi fare un tracciamento rapido, vediamo quotidianamente, noi che abitiamo insomma sul territorio riminese, le lunghe file davanti all'ospedale, sulla rampa dell'ospedale infermi per eseguire i tamponi, sono veramente tantissime le persone che in questi giorni stanno aspettando anche di vedersi fare un tampone, ci sono state le feste, c'è un super lavoro, con questo in nessun modo si vuole andare a criticare il lavoro di chi sta già operando, perché sta facendo il massimo e forse anche di più, perché lo sta facendo da tantissimi mesi, probabilmente servono invece forze nuove. Ne parleremo, ne parleremo più avanti nel corso della mattinata, perché adesso abbiamo già un ospite, però al volo prima di salutarlo, dico solo il commento di Antonio, che commenta appunto le spese per la campagna elettorale, Antonio saggiamente dice, come dice mia moglie, difficilmente le mogli hanno torto, chi più spende meno spende, perché poi insomma effettivamente alla fine magari comprare qualcosa di migliore può aiutare a farlo durare nel tempo, questo anche quando si tratta di una campagna elettorale. Adesso entriamo su un tema delicato, lo facciamo sia a Riccione che a Rimini, lo faremo uno via l'altro con due esponenti, perché parliamo dell'andamento delle prenotazioni per questo capodanno, un capodanno quanto mai particolare dopo gli ultimi provvedimenti decisi dal governo. Proprio così, ieri lo avevamo sollecitato, lui ci stava seguendo perché è un nostro ascoltatore quando riesce sul tema, perché ci aveva salutato, stiamo parlando di Bruno Bernabèi, che è presidente di Costo Tele Food in Tour, che abbiamo in collegamento con noi. Bruno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ben trovato, allora come sta andando? Voi ieri ci raccontavi, ci scrivevi ieri mattina sulla nostra pagina Facebook dovevate fare un po' il punto per capire effettivamente queste giornate così decisive per gli arrivi anche possibili e sperati di turisti, che cosa ci puoi dire? La situazione non è delle migliori, anzi, dopo il provvedimento, ma anche già c'era nell'aria anche prima, però almeno eravamo in una incertezza e speravamo in un capodanno che poteva darci lui il lasmino, come si dice, come è sempre successo nella nostra leghiera. Invece da ieri, poi gli uffici sono aperti da ieri, ovviamente stanno arrivando disdette continue, sono disdette molto alte a fronte di quello che si pensava, di un dato che è uscito anche, cioè 100 alberghi aperti di Rizzone, diciamo quando era stato annunciato a metà novembre, circa la prima settimana di dicembre, oggi si dà un dato che non si si sa neanche se prende il 50%, cioè i 50 alberghi. Abbiamo delle disdette che vanno dal 30 al 40%, addirittura anche al 50%. La situazione è chiaramente di un'incertezza totale e non so se recupereremo da qui alla fine dell'anno, chiaramente legato a una situazione che giorno per giorno, come vediamo, sta peggiorando nella situazione pandemia-contagi, perciò è chiaro che le quarantene, è chiaro che gli spostamenti, noi continuiamo a spostare delle persone e farle vivere una vacanza. In questo momento penso che non sia così facile. Abbiamo, questa mattina ci vedremo, con un altro dato che ti fa capire un po' tutto quello che si sta movimentando, l'Ivo Contest dal 3 al 6 gennaio, un grande evento, un evento che ha fatto numeri da circa 30 alberghi impegnati su circa 2000 partecipanti nel 2019, eravamo arrivati con una conferenza stampa il 17 dicembre, addirittura con 1000 partecipanti sperati, dove si andava tutti convinti fino a ieri, fino a ieri, di andare avanti. Ci vedremo stamattina, usciremo con un comunicato stampa insieme al Comune di Rizzone, insieme alla Cruzina, alla Pelle d'Alberghi di Rizzone, perché comunque ci sarà una situazione da rivedere, da rivedere sicuramente per una… Quindi le ipotesi Bruno rispetto all'MC potrebbe essere o quello di ridurlo oppure anche eventualmente di posticiparlo? Esatto, ci sono due ipotesi, ma l'ipotesi più in percentuale, ci sono le due ipotesi, quello di ridurlo e quello di annullarlo e rimandarlo in tempi migliori, sono due o tre mesi, pensiamo a Pasqua per dire che è una cosa che ancora non la sappiamo neanche, perché comunque sia in questi giorni degli 80 gruppi prenotati, questi che in questo evento arrivano fino a 130 gruppi, in un momento così difficile, le scuole due o tre mesi che si preparano questo grande evento, che aspettano tutto l'anno, noi sono tre mesi che ci lavoriamo con i nostri ragazzi dall'ufficio, con Andrea, Gloria e Deborah, siamo arrivati a un 50% di disdette e la cosa che ci preoccupa di più con un accordo che abbiamo fatto ieri di Sinecruising con tutti i responsabili delle scuole che vengono da tutta Italia e che ogni scuola c'è qualche problemino, perciò questo vuole dire che se non prendiamo la decisione oggi andiamo sottodata con una situazione che non sarà migliore. Ecco per dirti, non voglio essere neanche, noi operatori tonizi abbiamo sempre il sorriso in bocca. Ebbè però Bruno bisogna essere anche molto concreti, quello che ci dici spiega benissimo la situazione, io penso che anche aiuti le persone che ci stanno seguendo, poi come dici tu, il sorriso lo manteniamo sempre, l'ottimismo, però ci sono anche situazioni che effettivamente indipendenti dalla nostra volontà, anzi avremmo voluto che ci fossero duecento scuole e duecento alberghi aperti. Purtroppo bisogna fare i conti con una situazione che non è sempre facile prevedere quando si inizia ad organizzare un evento. Esatto, anche perché veramente fino a poche settimane fa, come diceva Bruno, le cose erano ancora molto buone, c'erano eventi, c'erano gli eventi per il Capodanno. Ci chiedevamo sia nel Capodanno che nel dopo. Esatto, ricordiamo che a Riccione e a MC fa tante, quindi molti alberghi magari fanno anche il bis. Esattamente, c'è il primo conseguente dell'MC, di solito è sempre successo così da 12 anni a questa parte, da quando c'è l'evento. Bruno, tornando invece a chi ha disdetto rispetto al Capodanno, quindi alla sua presenza in albergo quei due o tre giorni, con tutto quello che ne consegue, a tuo avviso anche sentendo le chiamate o comunque ascoltando i ragazzi che poi ricevono le chiamate di disdette, soprattutto perché? Perché molte famiglie stanno vivendo una situazione magari di contagio quarantena e quindi non si possono muovere? Oppure credi abbia inciso anche la necessaria e doverosa scelta delle amministrazioni, adesso parliamo di quella di Riccione, di cancellare tutti gli eventi previsti per la notte di Capodanno? Anche meno quelli di piazza. Esatto, quelli di piazza. Pensi che possa avere inciso anche questo? Allora, più che la cancellazione di eventi, come sempre, è una festa, Capodanno è una fine, è un inizio, ma più che altro dalle telefonate che arrivano c'è l'incertezza di come si andrà chiaramente in prossimi giorni e ci sono anche delle situazioni di contagi già esistenti, di quarantena. Cioè un po' tutti insieme che ha messo poi, dopo Natale, in campo il fatto di disdire anche perché poi ci sono i famosi due o tre giorni. Esempio, io so che tutto il il corso booking, ormai è saltato tutto, cioè online, ormai c'è la chiamata diretta che sostituisce quell'altra, ma sono più le disdette di quelle che sostituisce. Ecco, infatti. Quindi tu pensi che allo stato attuale, ci dicevi prima, questi 100 alberghi per cui ci sarebbero state le aperture a Capodanno potrebbero, viste le disdette, decidere di non aprire, magari orientare i pochi prenotati che sono rimasti magari su altre strutture che invece rimarranno aperte. Esatto, lo dice io, questo dato di riduzione ce l'ho dalla Federalberghi. Sì, certo. Sì, sì, no, no, certo. Di non avere, di non andare oltre i 50 hotel aperti anche perché poi un hotel che fa B&B probabilmente può anche rimanere con le sue 10, 15, 20, 40. Un hotel che c'è al cenone deve... Avere i numeri, chiaro. Deve superare un minimo, no, per avere tutto quello che è stato... Perché non sia solo una spesa o una rimessa dai quei due o tre giorni che resti aperto. Perciò faranno, secondo me, ci saranno degli hotel che non apriranno e probabilmente passeranno, io spero che passi un po' le puntazioni in altri suoi colleghi. Che magari invece sono aperti o sono... Certo. C'è anche un auspicio che come consorso, visto che rappresentiamo noi un consorso di riduzione abbastanza ampio, di associati e anche di collaboratori, vogliamo sussi tanto o tanto alberghi in riduzione e anche quello di trovare delle soluzioni in modo che anche quelli che vogliono venire insomma che siano relegati a non venire, magari poter appoggiarsi su delle situazioni esistenti. Certo. Comunque chi deciderà di venire troverà una riccione bella perché gli addobbi, il clima c'è, ci sono i negozi, ci sono i ristoranti. Cioè sicuramente riccione così come Rimini, così come le altre nostre città della costa che hanno puntato da qualche anno al prodotto anche Natale e Capodanno in modo particolare, si farà trovare nel modo migliore e quindi chi verrà siamo certi che starà bene, però effettivamente sono giorni molto molto complessi per decidere, qualora magari si avesse avuto il desiderio di fare qualche giorno fuori, anche soprattutto per gli operatori che si trovano a dover affrontare una situazione quanto mai complessa. Bruno direi, aspettiamo a questo punto le decisioni anche sull'MC. prese oggi. Esatto. Anche perché oggi c'è un'altra minitro, che c'è un'altra gabina di resiaco, comitato scientifico mi sembra. Eh sì, tra oggi e domani probabilmente. Speriamo che non cambino ulteriormente le cose, ma non è detto. L'incertezza è massima. È massima, anche perché un decreto, poi chiudo, fatto il 23 di dicembre, ancora noi ieri non abbiamo neanche, non ci è arrivato definitivo, metto in condizione anche di, tornando sempre ai grandi eventi, di metterli in condizione di rinviarli perché altrimenti non mettiamo, non possiamo dare quella sicurezza e quella voglia di festa che invece merita venire dalla nostra stupenda. Certo, certo. Bruno, grazie per quello che ci hai raccontato, per i dati che ci hai portato, anche a te e a tutti i tuoi, anche a tutti i ragazzi del gruppo Cost Hotel Food in Tour. Grazie Bruno, buona giornata. Un abbraccio. Quindi ricapitolando la situazione, facendo una sintesi di quello che è emerso in questa chiacchierata, stanno arrivando delle disdette nell'ordine del 30, 40, anche 50% per quanto riguarda le prenotazioni che erano già state effettuate su Riccione, con circa il 50% di quei 100 alberghi che sarebbero dovuti restare aperti per il Capodanno che di fatto potranno e vorranno aprire. Grossi punti interrogativi anche andando avanti, andando ai primi giorni di gennaio sull'MC Pop Contest, dove dovevano arrivare un migliaio di partecipanti, un'ottantina di gruppi e di scuole prenotate da tutta Italia. Già in questo caso c'è stata una decurtazione quasi del 50% per quanto riguarda i gruppi, una situazione in continuo divenire e due ipotesi sul piatto, quella di ridurre l'evento, che mi sembra quella minoritaria, e quella forse che prenderà piede nel corso della giornata, quando si avranno le decisioni definitive, di rimandarlo ad un periodo migliore. Anche perché intanto sono tutti ragazzi, ricordiamo che l'MC Pop Contest, per chi non lo conosca, è questo grande evento di ballerini, possiamo dire street dancer, quindi ragazzi che poi fanno anche delle evoluzioni, molte volte in gruppo, perché sono delle vere e proprie crew, quindi stiamo parlando di 10, 15, 20 ragazzi che arrivano da tutta Italia con i loro insegnanti. E hanno tra l'altro già animato Riccione con una sorta di spot promozionale di questo evento, proprio arrivando sul posto, ballando per le strade della Perla Verde. E quindi anche questo aspetto del ballo, dello stare insieme, di grandi gruppi, perché si parlava di tante scuole di ballo con centinaia di ballerini, credo crei qualche e più di apprensione. Questa è la situazione in quel dirigione. Adesso noi proviamo a spostarci a Rimini, chiedere alla regia di metterci quindi in contatto con la presidente degli albergatori, messaggio giunto poco fa a Max Alberici che insomma aveva già notato. Non c'è bisogno che dici tutto. Come no? Non ha ricevuto il tuo messaggio con il numero di telefono. Ah ma perché non ho spinto invio, ma è semplicemente quello il problema. Ah ma allora tu cosa vuoi? Che il tuo regista ti prevenga dei tuoi desideri? E che sai, tu sei capace di fare due cose contemporaneamente, io o ascolto l'intervista e cerco di interagire o mando messaggi. Comunque Giuseppe simpaticamente ci scrive, fossi nelle discoteche cambierei il codice a te, realizzerei 5-6 camere, trasformerei il locale in un albergo, poi inviterei un DJ di grido. L'osservazione di Giuseppe, tra l'altro che anche ieri un po' ci aveva sollecitato su questo, in qualche modo la porremo anche alla presidente perché tra poco ci collegheremo, almeno speriamo che possa essere con noi. Anche perché poi sui quotidiani oggi si parla proprio di locali che si stanno attrezzando per feste dove non si parla di ballo, ma diamo il buongiorno a Patrizia Rinaldis, presidente degli albergatori riminesi. Buongiorno e auguri presidente. Buongiorno a tutti. Approfittiamo, facciamoci comunque gli auguri. Poco fa abbiamo sentito Bruno Bernabei di Cost Hotel Food in Tour di Riccione che ci ha prospettato una situazione difficile dicendo che dei 100 alberghi che dovevano aprire probabilmente nella Perla Verde ne apriranno la metà forse e che ieri si è fatto il punto sulle prenotazioni con disdette nell'ordine del 40-50% al momento. Le chiediamo qual è la situazione invece a Rimini? Allora, la situazione diciamo intanto che è in continua evoluzione, nel senso che quello che vale oggi non vale domani perché purtroppo molti si fanno i tamponi all'ultimo momento poi portando bene scoprono di essere positivi. Però è anche vero e io questo lo devo riconoscere alla capacità un po' dei nostri imprenditori, nel senso che anch'io ho fatto molte telefonate. È vero, le disdette sono tantissime ma è anche vero che ci sono delle richieste ed è chiaro però che ci attestiamo intorno al 50-60% al momento. Se dobbiamo dire che nel 2019 eravamo al 100% è chiaro abbiamo perso un 40%, avevamo sicuramente prospettive più alte, però ad oggi se posso dire un 60%, la media di un 60% con richieste anche piccole ma che continuano ad arrivare, questo vuol dire che comunque si sta vendendo un territorio ed è questo credo che sia la cosa più importante sia. Con il coraggio chiaramente di molti nostri imprenditori che stanno aperti non sapendo se il 30 quanta gente arriverà e questo è il grosso dramma. Però ho visto che si sono rinventati proprio le offerte, oggi stanno puntando tutti, venite comunque la città storica, culturale, i mercatini di San Marino, sono aperti i parchi, però la paura e soprattutto questo grosso punto interrogativo del tampone anche prima di partire per molti vuol dire rinunciare alla vacanza. Rinunciare alla vacanza soprattutto quando è una vacanza appunto che si deve fare di lì a poche ore. Patrizia, secondo lei è possibile che alcune disdette siano arrivate per la mancanza di eventi, quindi vabbè Rimini non fa più il concerto, ma già questo lo sapevamo, ma non fa neanche più il capodanno diffuso e quindi non ci andiamo? Oppure questo conta fino a un certo punto perché ormai gli italiani tutti sono abituati ad una continua evoluzione dicono, comunque troveremo una città bella. Guardi, io punto più sul troveremo una città bella, nel senso che fortunatamente il brand Rimini è talmente consolidato che comunque uno che ha deciso viene a passare uno o due giorni. Io questo lo dicevo perché le grosse prenotazioni noi le abbiamo avute anche prima, cioè a settembre, ottobre, novembre, cioè comunque senza sapere cosa ci sarebbe stato. Comunque veniamo a passare qualche giorno, io credo che invece il grosso sia stato quello delle discoteche, chi ha basato tutto il pacchetto sulle discoteche lì è un problema. Ah, chiaro, certo. Anche questo immagino fosse almeno una categoria di alberghi a proporre questo tipo di offerta. Il pacchetto. Sì, il pacchetto, siccome molti hanno utilizzato il pacchetto discoteca, ecco su questi sicuramente, probabilmente potrebbero anche non aprire in questa situazione, perché si sono trovati dall'oggi al domani comunque cancellate tutte le prenotazioni. Ecco, lì è stato il grosso. Ma chi ha diversificato, chi ha puntato comunque sul territorio, più che riguardi sulla città, sul territorio, bene o male, ecco. Ma è chiaro che la situazione è quella che vediamo, cioè è un danno economico enorme per tutti. Certo, anche perché Patrizia alla fine per capire realmente se, come, quanto saranno pieni gli alberghi bisogna aspettare il 30, neanche il 29, perché il 30 mattina uno va a farsi il tampone come diceva prima, deve partire un'ora dopo e dice niente, dobbiamo cancellare tutto. È quello che succede, cioè nel senso che se fino a qualche anno fa io dicevo, ma me lo chiedevano due mesi prima, tre mesi prima, dico ci vorrebbe la sfera di cristallo, ma oggi non è sufficiente. Oggi veramente da un giorno all'altro, io ieri parlavo con una mia collega e mi dice io apri il 30, ma sono tutte prenotazioni dove non hanno chiesto, molti nostri operatori giustamente non hanno chiesto la caparra. Quindi noi stiamo chiamando tutti per sentire com'è la situazione. Ecco Presidente, in questi casi, ad esempio, vista l'emergenza, sappiamo bene che quando si va a notare una struttura ricettiva in tempi normali, appunto c'è la caparra, c'è comunque anche giustamente un'attenzione dell'albergatore che dice comunque se poi non si riesce a venire all'ultimo minuto comunque almeno la caparra mi resta. Ecco in questi casi come si sono attrezzati gli alberghi? Perché immagino che non sia semplice neanche questo. Da una parte la necessità di dire comunque io aprirò, avrò del personale, ho organizzato per fare il cenone, chi ce l'avrà o comunque per dare i pasti e poi potrei ritrovarmi all'ultimo minuto che ho il 50% delle persone che dovevano venire. Come ci si organizza? Viene comunque chiesto una sorta di ristoro a chi dovrebbe venire che poi all'ultimo minuto rinuncia? Allora, hanno agito in maniera diversa. Io suggerisco di utilizzare il buon senso. La disdetta in questo caso è per forza maggiore, cioè nel senso che è attestata, quindi paradossalmente bisognerebbe renderla oppure sostituirla nel caso che come abbiamo fatto in altri anni passati l'abbiamo commutata in una caparra per la stagione. Però molti, ripeto, hanno optato per non chiedere nulla. Nulla. E quindi se arrivano, arrivano, se no. Stanno chiamando, guardi, veramente molti, per quello io dico, c'è stato veramente un coraggio dei nostri operatori ma è anche vero che la situazione, qualsiasi cosa entri, comunque le strutture sono aperte, cioè sono già organizzate, quindi si auspica comunque che un po' di movimento ci sia perché altrimenti poi ripeto, i danni le conteremo e le vedremo dopo l'ultimo dell'anno. Certo. Ma è stata una stagione, tutti guardano soltanto la stagione estiva, ma da oggi alla stagione estiva, io penso soprattutto agli annuali, io credo che sinceramente bisogna raccontare veramente i danni di questa situazione. Di questa situazione estremamente confusa, estremamente fragile e dalleatoria. E' frammentata perché da un mese all'altro le situazioni cambiano drasticamente. Sì, sì, è anche perché l'alimentiamo continuamente questa situazione, io lo comprendo, però la stiamo alimentando quotidianamente, giornalmente, molti stanno facendo il tampone, la gente sta perfettamente bene, si rende conto magari che verrà freddore e poi risulta positivo. Se questo, va bene, è importante per la salute, ci mancherebbe altro per non poter contagiare, però è altrettanto vero che comunque è una situazione veramente paradossale. Le cogliamo tutti i paradossi di queste ultime settimane, siamo due anni, un po' di cinismo dopo inevitabilmente emerge. Patrizia, un'altra domanda che un po' ci è posta e che noi le rigiriamo. Come si stanno organizzando gli alberghi per la notte di Capodanno? Perché magari qualcuno ha la luce anche dei provvedimenti presi a livello nazionale sulle feste in piazza e sulle discoteche sta pensando magari di fare quel qualcosa in più e allora le chiediamo anche fino a che punto si può arrivare come alberghi nel fare qualcosa in più? L'unica cosa in più che possiamo è quella di avere una musica di intrattenimento, cioè è vietato assolutamente, io e tutto ieri che rispondo a questa domanda, è assolutamente vietato fare feste, quindi la festa in sé per sé non esiste. È possibile all'interno della sala fare della musica anche dal vivo, ma assolutamente no ballare. Quindi il cenone ci si siede, si mangia, si arriva a mezzanotte, musica di sottofondo, il brindisi seduti, non ci si alza e non si balla. È vietato anche in un albergo? Anche in un albergo, assolutamente vietato. Io l'ho comunicato a tutti, quindi su questo abbiamo mandato circolari, ma tutte le telefonate di ieri io mi sono raccomandata, anche per rispetto comunque, ci vuole anche rispetto verso coloro che non possono fare o devono agire. Certo, no, infatti, perché sarebbe quello di ulteriore paradosso, perché effettivamente. No, no, no. Quello che i nostri operatori hanno fatto, a parte la sera, quindi questo cenone, ma il cenone non inizia più a mezzanotte, ma è una cena che si protrae, proprio perché c'è anche, molti hanno attivato questa musica comunque d'ascolto, d'ambiente e poi col brindisi finale. Però molti poi, non dimentichiamocelo poi, che la città comunque sia sul ponte di Tiberio. È aperta, certo. Non solo è aperta, ma c'è questi videomaps molto belli, comunque ci sono, io credo che si possa vivere bene, c'è i musei aperti, gratuiti, fino alle tre di mattina, per cui in realtà una vita c'è. Bisogna avere il coraggio anche non solo di comunicarla, ma di dire che comunque è continua, cioè quello che tu fai a casa tua lo puoi fare tranquillamente in una città che comunque è piena di luci e soprattutto anche di cose da vedere, perché poi il fascino della notte è sempre il fascino della notte. Altri mi dicono anche che comunque, le dicevo prima, hanno puntato molto anche proprio su dei pacchetti organizzati, perché non nascondiamoci qualcuno ha prenotato tre giorni, quindi sono stati organizzati dei pacchetti con la visita dei mercatini a San Marino e poi invitando a visitare comunque le nostre località di Cine, quindi puntando veramente molto, le visite guidate tra l'altro anche quelle hanno avuto grossi, pensiamo alle visite guidate, grossissime visette, i gruppi li hanno disdetto, tutti hanno disdetto. Poi ho degli alberghi che mi dicono che addirittura hanno degli austriaci che sanno benissimo di fare la quarantena, ma accettano tranquillamente di farci i suoi 4-5 giorni di quarantena, ma vengono comunque qui. Rimini diciamo che ha un'offerta molto variegata, molto ampia, ci sono veramente tante persone diverse che arrivano per motivi diversi. Patrizia, che dire, oggi è questo il punto, domani potrebbe ulteriormente evolvere, perché qua purtroppo… Alle 9.46 del 28 dicembre la situazione è questa. Possiamo dire questo, e quindi sicuramente la puntualizzazione che era importante, perché anche alcuni nostri ascoltatori giustamente si avevano sollecitato, ma alla fine non si balla in discoteca, magari si balla in una sala dell'albergo, non si può. Non si può ballare solo nel suo salotto. Neanche nel proprio salotto, solo se è da solo nel proprio salotto, insieme ai propri congiunti, basta. Quest'anno niente balli. No, no, assolutamente. Patrizia, grazie e buon anno. Buon anno. Grazie anche a voi, buon anno e buona giornata. Grazie. Praticamente l'Italia si è trasformata in una gigantesca Beaumont. Una gigantesca Beaumont? Sì, la città di Footloose, quella dove era stato vietato il ballo. Vietato ballare, come sei. Ma adesso arriverà Kevin Bacon e risolveremo tutto. Esatto, e ci porterà nella ballera abusiva, ti vorrei ricordare. Nella ballera abusiva. Se arriva Kevin, Kevin lo fanno ballare. Però vorrei dirti che le ballere abusive, non a caso, gli inviti ai parti abusivi corrono nelle chat, Andrea. Allora, abbiamo raccolto questa situazione in corso d'opera sul Capodanno ariminese e riccionese. Adesso vi proponiamo il perché di tutte queste difficoltà, vale a dire i numeri, che sono i numeri del bollettino che arrivano. Io volevo dire che a Bellana, ad esempio, il Capodanno si fa al teatro seduti, perché potrebbe essere una bella idea. Dalle 11 a Luna, poi hanno fatto al teatro proprio perché poi uscendo, perché poi uscendo, si può andare nei locali che sono lì, proprio nel pieno centro. I locali sono aperti. E ringrazio Stefano Vitale che dice che uomo di cultura che sono, effettivamente. Eh beh, sì, Andrea ha una cultura ampia. Una cultura cinematografica è l'unica praticamente che ho. Ma adesso andiamo a sentire, a voglia, quella calcistica. Andiamo a sentire invece la situazione sul territorio, dove continuano ad arrivare numeri che testimoniano come il virus stia effettivamente correndo. Poi entriamo anche nel dettaglio di quello che sta accadendo nelle strutture sanitarie del territorio e anche nelle difficoltà di tracciamento che tutti ormai abbiamo visto, perché ci sono palesate in maniera piuttosto chiara, ma oggi ci sono ulteriori dichiarazioni proprio da parte dei vertici dell'Ausola Romagna. Ma partiamo dai numeri. Il virus non arresta la sua corsa neppure a Natale. Anzi, a fronte di un minore numero di tamponi effettuati nei giorni di festa, i contagi restano molto elevati. Dopo i 310 di ieri, oggi in provincia di Rimini, sono 412 nuovi casi, con 312 sintomatici. Appena 13 le guarigioni, mentre si registrano due nuovi ricoveri nelle terapie intensive dell'ospedale Infermi. Sono 15 in totale. Contagi elevati anche in Emilia Romagna. 3.482 su 23.243 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi è del 14,9%. Ieri era oltre il 19. Maglia nera di contagi si conferma a Bologna, con 791 davanti a Modena, con 727. Ma anche nelle tre province romagnole il virus morde forte, con oltre un migliaio di nuovi casi in 24 ore. In regione, le guarigioni oggi sono 560. I casi attivi salgono ad oltre 57.700. Aumenta però anche la percentuale di chi se la cava con sintomi lievi, in isolamento domiciliare. Sono il 98,3% dei casi attivi. Il rovescio della medaglia sono invece i ricoveri. Mentre restano 107, quelli nelle terapie intensive regionali, si contano purtroppo 49 pazienti in più nei reparti ordinari, dove il totale è di 1.236 ricoverati. Il dato dei reparti ordinari è tra l'altro l'unico che al momento tiene le milie romagne in zona bianca. La percentuale di occupazione, ora al 13%, si sta però avvicinando alla soglia critica del 15. Anche oggi in regione si registrano poi altre 14 vittime. La più giovane è una ravennate di 54 anni. E purtroppo abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda l'andamento percentuale dell'occupazione dei posti letto in area non critica in Emilia-Romagna, che come si diceva nel servizio è l'unico dei tre indicatori che è rimasto al di sotto della soglia critica e quindi mantiene l'Emilia-Romagna in bianco. Ecco, diciamo che si assottiglia ancora di più il margine. Ieri era 13, tu c'è quello che avevi comunicato. Ieri mattina appunto era 13, poi l'elaborazione viene effettuata una volta comunicati i dati. Oggi sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari si aggiorna il dato che diventa del 14%. Quindi ad un solo punto dal passaggio in zona gialla, che a questo punto diventa probabile a partire dal lunedì. Perché sappiamo che scatta lunedì e quindi diciamo che l'aspetto principale da prendere in esame, in questo caso per le attività economiche, col passaggio al giallo, è quello che riguarda le attività di ristorazione dove non si può sedere in più di 4 persone al tavolo. Se scattasse comunque il provvedimento da lunedì come dovrebbe, si sarebbe salvo quantomeno il cenone per chi l'ava prenotato nei ristoranti nella notte appunto di Capodanno. Questa è la situazione, anche noi andiamo avanti spesso ragionando per ipotesi. Gli altri dati Andrea ci sono rispetto alle aree, diciamo, comunque quanto è cresciuto l'intensiva, l'incidenza sappiamo già che è altissima, però anche capire magari i dati per le terapie intensive in Emilia Romagna. Sappiamo già che avevamo superato abbondantemente il 10%, ma eventualmente... La percentuale delle terapie intensive, come poi si diceva nel servizio, resta stabile da un paio di giorni, perché se non sbaglio sono 107 le persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva, quindi è stabile al 12%, due punti al di sopra della soglia critica. L'incidenza è quella aggiornata al 26 dicembre, che parla invece di 427 casi, quasi 428, ogni 100 mila abitanti in regione. E poi ricordiamo bene, come tanto tutti noi monitoriamo anche i dati e regionali, ma anche a livello nazionale, che c'è stato questo picco ai 50 mila casi subito prima di Natale, poi ricordiamo sempre che a Natale Santo Stefano, su cui ancora incidono poi le cose fatte, per cui anche i dati che stiamo avendo, almeno fino alla giornata di ieri, con numeri ad esempio a livello italiano anche più bassi, circa 30 mila casi. Ma perché questo? Perché si cerca soprattutto, visto anche il carico di lavoro che c'è nei giorni festivi, di far passare avanti coloro che effettivamente sono in malattia conclamata, perché immediatamente si possa per loro anche definire un po' il percorso della malattia. Per cui non ci illudiamo che questi dati un poco più bassi rispetto ai 50 mila, tutti, tutti, molti dicono che anche questa mattina ci sono alcune dichiarazioni in questo senso del Presidente dell'Ordine dei Medici, Maurizio Grossi, che è stato più volte anche con noi, che dice il picco arriverà a gennaio. A livello nazionale qualcuno, in particolare Ricciardi, appunto ieri vi leggevamo questa intervista, in cui si diceva si potrebbe arrivare a 100 mila casi giornalieri. Ma credo che sia stato confermato anche dal sottosegretario della Salute. Esatto, Sileri, vediamo, io spererei di no, sinceramente, però ecco non ci facciamo illudere da questi dati di questi giorni, 30 mila, 28 mila, che probabilmente non sono così veritieri di quello che è la situazione. C'è però una situazione che vi abbiamo accennato che è in via di studio, vale a dire quello di accorciare la quarantena per i soggetti vaccinati. Già qualcosa di simile avviene, adesso vi parliamo di quella che è la realtà ipotetica, nel senso quello che dovrebbe accadere, perché poi magari proviamo a capire invece di più quello che sta accadendo, almeno sul nostro territorio in questo caso. Quindi si valuta di ridurre i tempi di quarantena per i soggetti vaccinati. Già ora c'è una riduzione che è da 10 a 7 giorni, per chi è vaccinato quindi sono 7 giorni, ovviamente deve essere asintomatico e negativo al tampone, ovviamente, e l'ipotesi è quella di ridurre ulteriormente per chi farà la dose booster. Quindi non so se si tratta di una ulteriore riduzione, quindi diventerà lo step 10, 7, 5, oppure si deciderà 10, 5, nel senso solo che ha fatto la dose booster avrà questa data di quarantena più limitata appunto restando negativo. Se ne saprà di più domani, perché è stato convocato proprio il comitato tecnico scientifico per prendere una decisione a tal proposito, qualcosa di simile già succede negli Stati Uniti, dove l'isolamento da 10 a 5 giorni per i positivi covid asintomatici vale appunto per i vaccinati. Su tutto questo però c'è il grosso punto interrogativo delle tempistiche legate al tracciamento, legate all'effettuazione del tampone, perché anche oggi sulle pagine del resto del Cardino si analizza una situazione che è quanto mai problematica. Si parla di tempi molto dilatati, si ribadiscono le difficoltà che l'azienda sanitaria ha perché nel Riminese, e questo è emerso anche in un'interrogazione che vi abbiamo proposto ieri in consiglio comunale del consigliere Marcella a cui ha risposto l'assessore Gianfreda, il personale addetto al tracciamento è passato da 32 a 21 unità, 32 erano sul finire dello scorso anno, quando c'erano meno contagi, sono 21 ora. Un personale che non permette di far fronte alla mole di richieste che ci sono, né per quanto riguarda il tracciamento, né per quanto riguarda la tempistica dei tamponi, alle quali si aggiunge rispetto ad un anno fa, quando comunque c'era più personale, si aggiunge la necessità di avere del personale per le vaccinazioni. Quindi tutto questo personale viene a mancare, e va in sofferenza, come spiega lo stesso direttore dell'Ausl-Romagna Caradori, tutto il sistema, perché poi non ci sono gli infermieri, perché i medici del pronto soccorso sono risicati e anche di non una pianta organica pienamente in funzione. E tutto questo fa sì che si verifichino situazioni che sono situazioni di disagio. Guardati, ecco, alcune dichiarazioni proprio del direttore generale dell'Ausl-Romagna Caradori, rilasciate al resto del Cardino, proprio su questo tema della diminuzione... Intanto salutiamo anche Gianluca e Stefano. ...della diminuzione, e con Stefano dice che ci si sta incartando, con questo problema delle 40... Anche di più forse. Siccome ci si è già incartati, stiamo facendo anche il fiocco. E comunque, dice Caradori, il personale è calato ovunque in Italia, quindi anche rispetto appunto al calo che c'è stato nel nostro territorio. Alle promesse del commissario per l'emergenza Figliuolo, che ci aveva promesso rinforzi dell'esercito, non sono seguiti i fatti. All'Ausl-Romagna sono arrivati tre sanitari dell'esercito, fin qui hanno lavorato solo un giorno, perché poi le scuole hanno chiuso per le festività natalizie. Perché ricordiamo che Figliuolo aveva promesso un aiuto proprio per il tracciamento nelle scuole, dove anche lì si mostrava tutta la fatica del sistema. Poi lui dice, è chiaro che va rivisto il sistema del tracciamento. Con questi numeri, 1431 nuovi casi solo a Rimini negli ultimi 4 giorni e con le attuali forze in campo, è impossibile gestire tutti. Lo dico nonostante la Romagna sia tra le realtà dove il contact tracing viene svolto nella maniera più puntuale e capillare. Oltre il 50% dei positivi viene scoperto con il tracciamento. Dopo il caos di questi giorni, l'assessore alla sanità Gianfreda diceva che appunto ci sarebbe stato un aiuto anche di personale del comune. Naturalmente credo siano 5 uomini del comune in supporto. E quindi il personale sanitario sta facendo il massimo ma estremato. Ma di questo credo che tutti siano consapevoli. Spero tutti. La problematica, insomma la maggior parte delle persone, è legata a quelle persone che sono proprio in attesa di un tampone per capire se sono effettivamente positivi perché stanno andando a ruba anche i kit fai da te che possono dare dei risultati più o meno attendibili che però portano le persone a dover accedere alla sanità pubblica. L'ulteriore grave disagio di questi giorni è legato, e lo leggo sulle pagine del Corriere Romagna, al fatto che in questi giorni di vacanza con la chiusura degli ambulatori, dei medici di famiglia, a prendere d'assalto è stata la guardia medica e sono stati giorni di passione. Tra l'altro sulle pagine del Cardino c'è l'ex onorevole Pizzolante che racconta la sua storia con un nipote con la febbre dal 22 e che si è fatto un autotampone e risultato positivo e dal 22 è riuscito a parlare con l'azienda sanitaria per fissare il molecolare solo il 27, quindi facendo passare 5 giorni in cui si è messo in autocuarentena. L'unica cosa è fare così, si sta male, ci si mette in uno stanzino chiusi e sigillati e si attende ad avere notizie con dei buoni libri, una buona radio, tempo reale, un po' di musica. E allora viene forse utile questa pagina del Corriere della Sera di oggi dove si risponde ad alcune domande proprio relative sia a chi sono i contatti stretti per capire anche se uno è effettivamente un contatto stretto, magari lo capisce da solo e si regola raccontare tutto quello che almeno è stato fatto nelle ultime 48-72 ore. Allora andiamo nel dettaglio sia dei contatti sia dei tamponi di quando richiedere o meno un tampone, dopo aver letto il messaggio che ci arriva da un amico da casa che dice siamo tornati indietro al marzo-aprile 2020 quando per avere un tampone dell'Ausl si aspettavano 10-15 giorni con le conseguenze ovvie. Abbiamo imparato poco, all'epoca i tamponi erano effettivamente molto pochi, ora sono tanti. Non c'erano proprio i tamponi. Ma insomma domande e risposte che è un po' quello che, poi se ne avete ulteriori fatecele tanto noi non sappiamo rispondere. Che cosa si deve fare se si è sintomatici? Vabbè questo semplice vuoi rispondere tu? Ma io direi chiudersi in casa sigillate, anzi non in casa, in una stanzina sigillata senza incontrare nessuno. Chiari sintomi oppure effettuato il test antigenico e ha avuto esito positivo dovrebbe ripetere subito il test molecolare. Subito, ma non dipende da lui il test molecolare. Chi ha ritenuto contatto stretto? Vai. Allora, la persona che vive nella stessa casa di un caso, covid ovviamente, la persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di covid-19 come una stretta di mano, si fa presente. Solo una stretta di mano? Già ti rende contatto stretto? Non so, dopo aver stretto la mano hai iniziato a passartela sul volto. La persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso covid, ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati, la persona che ha avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso covid a distanza minore di due metri e di almeno 15 minuti. Ma dice che range temporale? Cioè da quando? Sto continuando a leggere, vediamo se ci saranno anche definizioni temporali. La persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso covid in assenza di dispositivi di protezione idonei. Quindi senza mascherina. Un operatore, come noi due, un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso covid oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale. Mi angio che i laboratori da un po' siano attrezzati per tutelarsi. Me lo auguro, non siamo poi nella prima fase quando è sposa la pandemia. Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto, entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso covid, sono contatti stretti poi anche i compagni di viaggio, il personale addetto alla sezione dell'aereo o treno dove il caso indice era seduto. Io mi chiedo perché alla luce di questo non esiste più il distanziamento sui mezzi del trasporto? Cioè se sei contato cerca di evitare che ci siano queste... No perché se tornate a percentuali di riempimento molto alte, certo. Che cosa devono fare le persone che hanno avuto questo contatto? Allora i contatti stretti devono allertare il proprio medico per avviare le procedure sperando di riuscire a contattarlo. Beh diciamo che però normalmente il contatto stretto riceve lui una telefonata perché come fai a sapere di essere contatto stretto di un positivo? Lo sarai stato veramente? Qual è la procedura? Perché normalmente il contact tracing prevede e la persona positiva dice ho incontrato tot persone nella giornata di ieri, sono andato a pranzo con questi, non avevo la mascherina con questi altri, bene numeri di tutti e il personale così funziona il contact tracing avverte tutte le persone quindi qualcuno verrà considerato contatto stretto, dovrà fare tutta la procedura che ben sappiamo, altri invece saranno considerati contatti sporadici per cui magari un tampone di controllo dopo qualche giorno sempre che non arrivino dei sintomi però che qualcuno pensi di poter essere un contatto stretto io credo che questo già sia saltato da un pezzo, cioè che tu chiami e dici ho incontrato una persona positiva due giorni fa, gli ho stretto la mano, dottore mi manda a fare un tampone molecolare? Va bene. Quanto tempo devono rimanere in quarantena? In parte lo abbiamo già detto, chi non è vaccinato può uscire dall'isolamento dopo dieci giorni con un test antigenico o molecolare come risultato negativo, quindi vale anche l'antigenico, scrive il Corriere e chi ha completato il ciclo vaccinale può uscire dall'isolamento dopo sette giorni sempre con un test negativo. I contatti non stretti non hanno alcun obbligo di quarantena se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno quattro ore e dieci giorni, questo vuol dire che chi non è vaccinato anche se non è contatto stretto dovrebbe comunque rimanere in quarantena se ha avuto qualsiasi tipo di contatto con un caso positivo. Se ci si sottopone a un test e si ha esito negativo si può uscire dalla quarantena anche se si effettua un test molecolare o antigenico ed è negativo si deve comunque rimanere in isolamento dai sette ai dieci giorni, questo attualmente fino a che domani il CTS non risponderà al quesito che gli è stato posto sull'accorciamento di questa tempistica. Quando si può tornare al lavoro al termine del periodo di quarantena si può tornare al lavoro e il periodo d'assenza potrà essere coperto dal certificato medico al rientro, si dovrà contattare il medico competente della propria azienda. C'è un messaggio da Franco, penso che si riferisca appunto all'azienda sanitaria. Franco ci scrive hanno deciso di sospendere gli amministrativi e negare lo smart working. I problemi della mancanza di personale nascono da questa scelta della direzione. Immagino la sospensione degli amministrativi in caso di mancato vaccino. Quindi cosa succede? Che i vaccinati devono andare anche a prendere il posto degli amministrativi che in quel momento non stanno lavorando, comunque rimangono dei posti vacanti e sappiamo bene quanto gli amministrativi siano importanti. Franco dice poi negando lo smart working, cioè nel senso non sei vaccinato, non lavori per niente, non è che puoi lavorare da casa e questo esatto non è previsto. È chiaro che poi quando si tratta di aziende sanitarie, questo che è un sistema che potrebbe avere anche una motivazione di senso, fa saltare tutta la catena. Ci togliamo anche qualche curiosità sui tamponi, visto che oggi il Corriere della Sera ci aiuta. La prima domanda è in quali casi bisogna sottoporsi al tampone. Sono tre le situazioni. Il contatto, come detto, con un soggetto positivo, l'insorgere di sintomi che possano far pensare a Covid, quindi qualsiasi cosa, anche se hai probabilmente un'unghia incarnita, a questo punto potrebbe essere sintomo, oppure in vista di un incontro con persone fragili. I vaccinati con due o tre dosi possono infettarsi, ricorda il Corriere, ma meno dei non vaccinati. Possono contagiare in percentuale ancora minore, perché la carica virale dovrebbe essere più bassa e sono protetti al 95% dalla malattia severa. Quindi in mancanza di sintomi o di tracciamento richiesto dall'azienda sanitaria locale non è necessario che si sottopongano ad un tampone. Questo scrive il Corriere. Quali tipi di test si possono utilizzare? Il tampone molecolare ovviamente è il più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato a livello naso-arofaringeo e il margine di errore è praticamente zero. Quindi sul molecolare massima tranquillità sull'esito, perché appunto viene rilevata la presenza del genoma virale anche in soggetti con bassa carica, quindi compresi i presintomatici, prima che sviluppino, oppure gli asintomatici. I test antigenici rapidi sono sensibili invece alle proteine virali. Ne esistono di diversi tipi, dagli immunocromatografici, lateral flow vengono chiamati, che sono quelli di prima generazione, ai test a lettura immunofluorescente, che sono quelli di seconda generazione, che offrono delle prestazioni, dal punto di vista dell'esito, migliori. I test di ultima generazione sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai molecolari, se eseguiti nel modo giusto. Perché spiega il presidente dell'associazione dei microbiologi italiani, Pierangelo Clerici, il test antigenico può dare un range di falsi negativi tra il 10 e il 25%, a seconda che venga effettuato da una persona esperta, quindi ad esempio in farmacia o meno, come ci diceva il presidente. Questo significa che con i rapidi fai-da-te si rischia di avere risultati inesatti in un caso su 4, dato che la positività non viene rilevata. E ciò avviene perché non è facile effettuare da soli in modo corretto il prelievo naso-oro-faringeo che deve provocare un po' di fastidio ed è piuttosto normale che uno fatichia a recarsi da solo del fastidio anche volendo. Esatto, meglio sempre farselo fare da un altro, anche da un congiunto. Per quanto riguarda i test salivari non sono raccomandati, ma questo lo sappiamo, se ne era parlato tanto anche in relazione alla scuola, dopodiché sono stati cassati. Il pungidito invece è il test sierologico, quello che serve a vedere la produzione o meno di anticorpi. Diciamo se la malattia l'hai avuta, c'è stato un periodo in cui erano molto in voga i test sierologici, adesso sono un po' decaduti nel loro interesse. E si dice infatti che in questo momento non è utile effettuare questo esame a meno che non venga richiesto da un medico. Questa insomma è la situazione. Il titolo su cui si sofferma il Corriere è proprio quello del fai da te, fai da te sfugge un positivo su quattro e quindi questo apre tutta una serie di problematiche. Va benissimo farlo perché è un'ulteriore verifica soprattutto adesso in vista, prima lo dicevamo delle pranzi, dei ceni di Natale e di Santo Stefano e dei ceni, perché sono più di una, e delle cene di Natale e Santo Stefano adesso in vista del veglione di Capodanno perché effettivamente, non so, fate semplicemente una cena tra amici, vi volete vedere, siete una decina e magari un tampone lo si fa. Franco fa una precisazione tra l'altro sul personale amministrativo perché il decreto non prevede che sia coinvolto nell'obbligo vaccinale a questo punto di personale amministrativo ma è stata una decisione presa in autonomia dalla direzione. Ah ho capito, perfetto, grazie Franco per questa specifica e questa precisazione. La decisione è più che giusta, diamo il buongiorno anche intanto a Mario Erbetta e entriamo anche in ospedale. Entriamo anche in ospedale perché cambia un po' con l'arrivo della variante Omicron la modalità con cui si può accedere in ospedale. Diciamo che questa novità già riguardava gli infermi dalla settimana scorsa, diciamo che è l'ospedale più grande, ricordiamo quello anche che è una situazione più pesante perché c'è la terapia intensiva Covid, c'è il reparto Covid e quindi la decisione che era stata presa anzitempo rispetto alle altre strutture ospedaliere del territorio era quella, esatto, perché sostanzialmente da ieri, questa è la novità, per entrare a fare visita ad un paziente, innanzitutto vengono praticamente sospese tutte le visite che non sono necessarie. Cosa significa che non sono necessarie? Tutti avremmo bisogno di assistenza, di vicinanza, di affetto quando siamo in ospedale. Anche il necessario è relativo? Esatto, però questo non viene considerato necessario perché? Perché la persona, anche se sta sola, magari è più protetta perché chi arriva da fuori potrebbe portargli il virus, in questa situazione tutto è prevedibile e quindi si limitano le visite esclusivamente a chi fa assistenza a persone non autosufficienti o comunque ad esempio di bambini, pensiamo all'ospedale infermi dove c'è anche la pediatria, la terapia intensiva neonatale e via dicendo, però come si fa per entrare in ospedale? Non basta dire io sto bene, non basta dotarsi di mascherina, si verrà sottoposti a tampone che avrà una durata di 48 ore, per cui una volta che viene fatto il tampone la persona vaccinazione e tampone, esatto, quindi deve essere una persona vaccinata, quindi o col ciclo completo ma che ancora non deve fare il booster oppure meglio se col booster perché è arrivato anche al momento in cui deve sottoporsi al booster e poi anche tampone, tampone che verrà fatto direttamente dal personale sanitario, quindi chiaramente personale sanitario che già sta facendo tanto in ospedale ha anche questo ruolo in più, limitando il massimo. Speriamo che non sia una durata lunghissima perché sappiamo bene insomma la necessità per gli ospedali ma anche per i luoghi dove ci sono le persone fragili, quanto sia importante comunque anche per loro avere una visita dall'esterno, ma tutto è fatto, lo spiegano insomma bene per la cura e per la salute e di coloro che sono ricoverati ma anche degli operatori sanitari che già sono in difficoltà, se poi vengono a mancare perché si ammalano, perché un parente porta il covid dall'esterno, insomma è chiaro che le cose possono solo che peggiorare. Le nuove indicazioni sono state messe nero su bianco in una circolare firmata da Mattia Altini che è il direttore sanitario dell'Ausra Romagna che ha recepito di fatto quanto già previsto da una circolare del Ministero e poi anche da un atto a livello di Regione Emilia Romagna l'obiettivo, l'hai detto tu, è quello di limitare al massimo ogni tipologia di contagio all'interno delle strutture ospedaliere dove ci sono anche delle indicazioni che arrivano allo stesso personale, quindi gli operatori devono usare mascherine FFP2 nei contesti più a rischio, devono adottare comportamenti di massima sicurezza sull'igiene delle mani, il distanziamento fisico, il rispetto della separazione dei percorsi e il buon uso dei dispositivi di protezione sia nell'assistenza che nei rapporti con gli altri operatori al fine di non doversi mai considerare un contatto stretto di un altro operatore e quindi non far partire poi una catena che potrebbe ancor più mettere a rischio la situazione degli ospedali Emiliano Romagnoli. Il dato di ieri sulle tre province romagnole parla di 1.100 circa nuovi contagi a dimostrazione di un virus che sicuramente non sta allentando la presa. No, decisamente. Chiudiamo la nostra lunga parentesi legata al Covid. Qualche altra notizia però ce l'abbiamo, tranquilli perché sappiamo in questi giorni a noi siamo tornati a parlare tanto di emergenza sanitaria però vogliamo anche raccontarvi tutto ciò che accade perché insomma speriamo un giorno, lo dicevo ieri con qualcuno, sai quando sarà il giorno in cui del Covid non parleremo più? Direi ma come andremo a riempire le trasmissioni? Che cosa è che succederà? Ma no, sono sicura di questo. Per fortuna. Salutiamo anche Angelo. Buongiorno Angelo. Buongiorno anche a lui e allora io volevo fare un salto in quel di Viserba perché questa notizia poi ho visto che ieri sui gruppi anche Viserbesi un po' di scalpore diciamo così. Un po' di scooter perché è ovvio quando si parla di una struttura tanto attesa, recentemente inaugurata che ancora anche se per pochi giorni si trova ad essere chiusa ecco che i dubbi si aprono. Abbiamo le immagini. Dovremmo avere qualche immagini che abbiamo mostrate anche nel telegiornale. Andiamo al sottopasso di Viserba. Andiamo al sottopasso di via, fra via Ghelfi e via Lella Marmora a Viserba, struttura insomma nell'ambito dei lavori che sono stati realizzati a Viserba che prevedono anche poi un sottopasso solo ciclopedonale che è quello tra le vie Polazzi e Morri che resta operativo. Ecco però ieri è arrivata la notizia, è arrivata da RFI che si è occupata dei lavori di un'ulteriore chiusura. Una chiusura tra l'altro che è scattata ieri. Anche la comunicazione è arrivata in corso d'opera nel senso che dalla mattina di ieri, ma ce l'hanno comunicato nel primo pomeriggio, è scattata la chiusura per le auto, per il traffico veicolare di questo sottopasso. Per quale motivo? Perché RFI dice che il comune di Rimini, l'amministrazione comunale che ha curato la progettazione dell'opera, si puntualizza, ha chiesto di realizzare alcune migliorie legate al transito dei mezzi pesanti. Evidentemente la struttura così com'è non rende agevole questo passaggio. Ma la domanda delle domande è quanto resterà chiusa, quanto ci vorrà? Resterà chiuso poco, perché da ieri la riapertura è prevista per le 15 di venerdì 31, per iniziare il 2022 operativo. Ecco, infatti, ci sta, magari le verifiche che fosse tutto a posto, che quindi ci potessero passare gli automobili così come mezzi pesanti, sarebbe stato opportuno farlo prima dell'inaugurazione con tanto ritaglio del nastro, amministratori sul posto, felicità e gaudio di tutti i viserbesi e non solo, e poi dopo dieci giorni torna a chiudere. Ma io e Betta ci dice che gli autobus a causare la pendenza sbattevano la scocca. Eh, ho capito, però magari qualche verifica prima, ma Maria e Betta ha perfettamente ragione, io dico così che non sono un grande esperto di cantieri, però forse... Non sei ancora Umarelle? No, ancora, ma neanche, lì l'esperienza magari ci vorrebbe più un ingegnere che non l'Umarelle, spesso gli Umarelle ne sanno più degli ingegneri, però non so, non è meraviglioso dopo dieci giorni richiudere, però speriamo... E allora strutturale la pendenza era eccessiva, sottolinea ancora l'ex consigliere. Ecco, benissimo, speriamo ci si riesca a risolvere... Speriamo che effettivamente, perché già sappiamo che l'apertura era stata posticipata, perché doveva aprire il 7, poi è aperto il 9, adesso questa ulteriore chiusura con una riapertura prevista per il pomeriggio del 31, ecco speriamo che effettivamente questa tempistica venga rispettata per non dover costringere chi usufruisce di quel tratto a cercare vie alternative nella notte di Capodanno. Comunque si sta a casa, quindi non è un problema. No, non si sta a casa, si può girare, non ci sono coprifuochi né nulla. Ricordiamo anche le perplessità che erano state sollevate ieri su questo, nel senso non si può fare nulla, però la gente gira liberamente. Ci sono tanti luoghi dove uno può girare, abbiamo tanto spazio anche per non assembrarci. Allora invece, rimanendo un attimo sulle strade, ci sono i viali delle regine che si fanno belle, d'altra parte le regine, no eh, non è così la notizia. Un tratto era già stato oggetto di un intervento, ricordiamo anche… Siamo sempre a Rimini, perché i viali delle regine sono a Rimini. Ricordiamo anche le relative proteste per un ritardo nell'apertura di questi tratti e le difficoltà per le strutture che lavoravano, in modo particolare ristoranti e quant'altro, che a inizio stagione si sono trovati ancora col cantiere in corso, legato anche a alcuni ritardi dovuti alla pandemia, consegna di materiale e quant'altro, però ricordiamo che i lavori erano già partiti per i viali delle regine, nel tratto di via Regina Elena tra viale Tripoli e via Giusti. L'amministrazione cosa ha fatto? Ha approvato un progetto di fattibilità, che rientra nel progetto di riqualificazione di questi assi commerciali, che riguardano tutti i viali delle regine, quindi da viale Vespucci fino a viale Principe di Piemonte a Miramare, però nell'anno incontro, corso si arriverà alla progettazione esecutiva, perché poi gli interventi saranno effettuati per stralcio ovviamente, a partire dal 2023, in ballo ci sono circa, sono stimati circa 10 milioni di Euro, questa progettazione permetterà di andare anche a cercare dell'intercettare dei finanziamenti, che fanno sempre comodo in questi casi, però in questo momento non si parla di cantieri che partono, ma di un progetto di fattibilità. I tecnici sanno bene anche quali sono i passaggi, che sono abbastanza anche lunghi e complicati. Una precisazione doverosa, secondo me, riguarda gli stalli di parcheggio auto che, come è accaduto col primo intervento, resteranno invariati. Faccio un accendo, invece... Se uno dice bene, restano invariati e non li tolgono, qualcuno dice perché non li hanno aumentati, perché non li hanno aumentati... No, ma i parcheggi non si aumentano, cioè proprio come... No, non si aumentano? No, no, secondo me non è questa la priorità, aumentare i parcheggi, è cercare di toglierli i parcheggi perché le persone così vanno a parcheggiare da altre parti, non nei luoghi più sensibili e più belli, quindi a piedi o utilizzando i mezzi. Secondo me è un po' questa la filosofia, però mi sbaglierò. Andando verso sud, intesa direzione sud, prendiamo la statale, arriviamo all'altezza di Misano, perché a Misano... Lì c'è una data. Lì invece c'è una data, partiranno a marzo i lavori per la rotonda tra via Grotta e la statale 16, che è un po' l'accesso nord di Misano, però insomma è l'inizio di Misano e un incrocio molto pericoloso, un incrocio che sicuramente ha bisogno di una rotonda, tra l'altro qui i soldi c'erano già, in parte del Comune, in parte anche della Despar, diciamo tranquillamente l'azienda che aveva dato i soldi, perché? Perché rientravano negli oneri di urbanizzazione, non so se si chiamino ancora così, magari mi sbaglio, però insomma c'era una parte di denaro che veniva messa a disposizione da questa azienda che proprio lì ha aperto un supermercato, quindi insomma qui rientra proprio in quello che poi quando si aprono anche queste grandi strutture si prevede per il bene pubblico. Quindi c'è un inizio lavori che è marzo, diciamolo, quindi ci sarà questa rotonda decisamente importante. Invece il 31 gennaio ci sarà l'asta pubblica per la colonia Bercazoni a Riccione, si parte da una base d'asta di 9 milioni di euro, quindi prepara il gruzzoletto per fare la tua offerta. Non aveva detto che ce li dividevamo? No, io non ho la disponibilità. No, non ce l'hai. Si svolgerà alle 11 nella residenza civica di via Vittoria Emanuele. Cosa ci si può fare con la colonia? Ma si parla di condotel. Ah, si può fare un hotel alla colonia Bercazoni? Un condotel? Le offerte segrete, quindi... Silenzio. Dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 28 gennaio 2022. Nella nota nel quale si dava ufficialità di questa che è la prima asta che riguarda la colonia Bercazoni, benché sia divenuta di proprietà del comune già da parecchio tempo, il sindaco parla anche di questa interlocuzione in corso con Fondazione Cetacea, perché attualmente c'è un comodato d'uso gratuito fino al 31 dicembre per occupare una parte dell'immobile e il sindaco Tosi dice noi vogliamo che la Fondazione resti a Riccione, ci sono stati già parecchi incontri e si spera di trovare anche una soluzione su questo aspetto. Perché fai quella faccia dubbiosa? Beh, ci stanno anche a Rimini, ci stanno anche a Riccione dopo. Eh beh, le trattarughe sono tante. Ho capito, vabbè, comunque lasciamo stare. E adesso andiamo al meeting. Andiamo al meeting perché è già partito. Sperando che quando partirà in agosto la situazione sia. Esatto, esatto. Ma sono riusciti a farlo nel 2021. Ci dicono tutti che il 2022 non sarà... Dopo la dose booster, abbiamo la dose scooter. Esatto, non sarà l'anno in cui il covid scomparirà, ma sarà l'anno in cui impareremo a gestirlo meglio. Io non lo so, spero che sia effettivamente... Allora, ma chiave impareremo. Esatto. E però possiamo dire che il meeting, praticamente una volta che il 25, solitamente 25-26 agosto, chiude i battenti di un'edizione, qualche giorno di riposo e poi si parte per l'organizzazione dell'evento successivo. Tornerà il meeting 20-25 agosto, Fiera di Rimini. Ieri è stato presentato il manifesto ufficiale di questa edizione che avrà come titolo Una passione per l'uomo. Tra l'altro una frase scelta, tratta da un discorso di Don Luigi Giussani, tra l'altro quest'anno ricorre il centesimo dalla sua nascita, che proprio disse al meeting nel 1985. Diciamo che la presentazione del manifesto è stata per noi l'occasione, insieme al direttore del meeting Emanuele Forlani, di fare un po' il punto della preparazione e dei temi su cui si sta lavorando. Profili umani su sfondo colorato. Il meeting di Rimini presenta il manifesto ufficiale della prossima edizione, indica i percorsi su cui si innesteranno incontri e riflessioni dal 20 al 25 agosto e che prenderanno ispirazione dal titolo Una passione per l'uomo. Il nuovo manifesto in qualche modo rappresenta il titolo che abbiamo scelto per la prossima edizione, cioè Una passione per l'uomo. L'uomo inteso non come generico o come diciamo universale, ma ciascuno con le proprie caratteristiche, con le proprie difficoltà, con i propri pregi, con i propri difetti. Innanzitutto pensiamo all'esperienza che ciascuno di noi sta facendo in questo periodo, in questi ultimi due anni in particolare, perché riscoprirsi fragili tante volte è un punto finale, invece può essere un punto di partenza per cercare di intercettare quali sono le possibilità di rispondere, di trovare qualcosa che sia all'altezza del nostro desiderio, all'altezza delle difficoltà che tutti stiamo vivendo. Parleremo quindi di salute, di educazione, parleremo di lavoro, parleremo di scienza, parleremo di temi come sostenibilità, certamente affronteremo il PNRR e le possibilità di ricostruzione, quindi tutto quello che abbia a che fare con la vita dell'uomo. Si lavora per un meeting in presenza, vista anche la efficace organizzazione dell'ultima edizione, che coinvolga non solo i padiglioni della fiera, ma anche la città. Nell'edizione del 2021, assieme all'amministrazione comunale, abbiamo voluto fare un tentativo estremamente complicato, ma molto ben riuscito, perché tutti gli spettacoli del meeting si sono svolti nel centro della città. Ci auguriamo che anche nel 2022 il meeting possa essere presente non solo in fiera, ma anche in città, e il dialogo con la nuova amministrazione è già avviato. Abbiamo fatto le prove generali nel 2021, con un meeting in presenza, perché abbiamo occupato più di 100.000 metri quadri e abbiamo registrato 480.000 presenze, quindi molte di più anche di quelle che immaginavamo. È possibile costruire, certo è molto complicato in condizioni di ristrettezza, ma è possibile costruire, è possibile accogliere in sicurezza tutti i nostri ospiti. Stiamo lavorando in questa direzione, speriamo di poterlo fare in maniera ancora più agile. Queste le parole del direttore del meeting, Emanuele Forlani, quindi insomma loro sono pronti, pronti anche a migliorare eventualmente laddove si possa, ma ricordiamo bene che il meeting con 450.000 presenze ha retto bene, insomma anche al periodo comunque non facile, perché sappiamo sì che l'estate si sta meglio, il virus circola meno, però quando ci sono tante persone insieme la preoccupazione c'è, per cui aveva mostrato una grande capacità di organizzazione e la stessa, speriamo non serva, però sarà messa in campo anche l'anno prossimo. Io chiederai alla nostra regia TV, se riesci a vedere il mio PC davanti, perché noi eravamo in arretrato di un video che ci hanno inviato fuori tempo massimo per finire nel video della Vigilia di Natale, ma noi vorremmo che arrivi da Bruna. Ecco, guarda che bello. Guarda che bello, c'è anche il Babbo Natale dietro con la neve, sembra la neve che cade. Ci sono i tre remagi, una bella famigliuola, con la peccola, molto belle, molto, molto belle. Complimenti Bruna per il tuo presepe. Noi continueremo a mandarlo in onda se ce li inviate, quindi non abbiamo altre canzoni da cantare. No, 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 lo facciamo così con spirito proprio natalizio, per cui se lo desiderate mandate il presepe, cioè non fattesi arrivare il presepe, le immagini, le fotografie o i video dei vostri presepi al 337-511-336, via Whatsapp. Via Whatsapp. E insomma, noi volentieri lì mostreremo. Saremo in onda anche domani, per cui potete anche far camminare i remagi. Ah, sì? Sì, perché questa è l'azione, no? Piano piano, tutti i giorni, fai passettino dopo passettino, a far arrivare... Poi c'è un pastorello con l'app Verifica C19 che controlla che i remagi siano. Esatto, perché le remagi partono da lontano, per cui piano piano poi si avvicinano alla mangiatoia. Alle 10 e 27 minuti, mentre tu pensi ai remagi che camminano e si avvicinano alla mangiatoia, noi siamo arrivati al momento dei saluti. Salutiamo, ringraziamo sempre. Sembra il giocajouè. Salutiamo. No, non parliare di cecchetto. No, non siamo in parconia. Hai visto i manifesti? Finalmente sì, ne ho visto uno. Vabbè, gli ho visti uno. Però tutti dicono che si è attappezzata la città e almeno uno l'ho visto. Beh, era attappezzata 10 giorni per vedere lì. No, ma no, sono ancora lì, sono ancora lì. Le ho visti, finalmente ho visto, insomma, i manifesti di cecchetto. Domani per noi sarà l'ultima puntata dell'anno e quindi sarà anche occasione per scambiarci gli auguri con tutti voi. Fateceli per venire. Esatto. Insomma, belli, corposi. Fateci sapere, già pensate. Cosa ci augurate per il 2022? Esatto, cosa ci augurate, cosa vi augurate. Anche perché noi abbiamo delle sorprese per voi nel 2022. Ma molto sorprese. Grandi, grandissime sorprese. Ma veramente, non stiamo scherzando, saranno grandi, grandi sorprese. Non so se lo possiamo già dire domani. Magari chiediamo ai nostri superiori. Noi abbiamo dei superiori. Tu hai dei superiori? Certo. Ci ho pensato che su un po' di te ce ne fosse uno. Andrea, tutti noi abbiamo dei superiori, sappilo. E quindi domani chissà se vi potremo dare questo annuncio in anteprima, perché ancora non lo sa nessuno, non l'abbiamo detto a nessuno e quindi eventualmente potremmo essere i primi a darvelo. Nel caso non fosse possibile, dovremmo attendere l'inizio del 2022. Quello che è certo è che magari un'altra domanda che vi faremo è come vi state attrezzando per il Capodanno? Farete qualcosa? Ci date dei consigli? Iniziate a preparare le risposte. Se volete già rispondere a questo quesito sul come vi attrezzate per il Capodanno, il 337-511-336 è sempre operativo, quindi sia per questo tema, sia per inviarci ancora immagini dei vostri presepi, sia per qualsiasi altra cosa. Un po' il numero amico. L'unica cosa che noi non possiamo fare è né tracciamento né tamponi. Su quello vi tocca contattare. No, ecco, non chiamate noi. Buona giornata, a domani e grazie.